Cosa l'ha spinta a conferire la cittadinanza onoraria a questi tre magistrati? La gratitudine, la riconoscenza che una comunità intera deve avere a chi uomo delle istituzioni si è dedicato alla nostra città. Ha recepito il grido di aiuto, la voglia di questa città di riscattarsi, di rialzarsi, di emanciparsi, di liberarsi dai vincoli e dalle catene di una sparuta minoranza che per troppo tempo ha tarpato le ali e limitato l'aspirazione di sviluppo di una cittadinanza che ha tutte le potenzialità. Devo dire che inizialmente quando è arrivata la notizia sono rimasto un po' sorpreso, meravigliato, però poi quando ho capito le motivazioni sono rimasto contento. E' il riconoscimento di un lavoro che riguarda me come capo dell'ufficio, il procuratore aggiunto che ha coordinato le indagini e il sostituto che le ha condotte. Però io lo considero un riconoscimento all'intera procura, al lavoro di tutti i sostituti. E' un po' come quando si fa gol, lo fa un calciatore nel merito di tutta la squadra, se i risultati sono stati conseguiti su Sansevero in merito di un lavoro che riguarda tutto il circondario di Foggia. Certamente Sansevero è un luogo significativo, anche perché è un luogo dalle molte opportunità, un luogo dove ci sono importanti attività imprenditoriali che noi vogliamo difendere e tutelare. Insomma un bel riconoscimento e lo abbiamo apprezzato quando abbiamo sentito le motivazioni. C'è stata una sinergia di intenti tra la Procura della Repubblica di Foggia e l'amministrazione comunale per dare un segnale concreto, per eseguire dei provvedimenti di demolizione che avevamo. Quindi questa sinergia ha prodotto dei risultati importanti e oggi siamo qui per celebrare questi risultati. Il messaggio credo sia passato nel senso che si è introdotto un circolo virtuoso per cui addirittura prima ancora di intervenire noi con i sequestri delle occupazioni di suolo pubblico e altro, gli interessati per non impelagarsi in procedimenti penali e in processi vari, addirittura hanno cominciato con le demolizioni spontanee che ormai sono diventate numerose almeno per quanto riguarda l'area di San Bernardino e quindi il problema si comincia in un certo senso a risolvere anche per il messaggio che è arrivato e quindi su iniziativa spontanea da parte degli diretti interessati, che molte volte non sono necessariamente questi immobili che vengono demoliti, non sono necessariamente i piazzi di spaccio ma sono anche sostanzialmente molte volte soltanto semplici occupazioni di suolo pubblico che però hanno stravolto e danneggiato quello che era l'idea iniziale di quel quartiere che voi sapete bene era stato ideato addirittura col piano Marshall alla fine degli anni 50-40-50 con tutt'altre caratteristiche rispetto a quelle che abbiamo poi rilevato quando abbiamo cominciato con questo tipo di attività e di operazioni. Grazie